Il secondo pareggio consecutivo lascia, nel Teramo, la sensazione agrodolce di un'occasione ghiotta sciupata per tornare dal successo, ma al contempo la consapevolezza di aver espresso, dal punto di vista del gioco, il massimo. I tre punti rimangono ancora come un colpo in canna, è vero, e il secondo errore dal dischetto, quello di Magnaghi dopo quello di Bombaggia a Catanzaro, aumenta i rimpianti per una partita che poteva mettersi subito sui binari più congeniali alla formazione di Tedino. Ma la supremazia mostrata contro la Viterbese, chiusa a riccia, a protezione dello 0-0 fino alla rete di Cianci, è un patrimonio che il diavolo si porterà nel viaggio verso Monopoli. Io oggi gli ho fatto i complimenti, sono molto orgoglioso di allenare questo gruppo, molto orgoglioso, perché non è semplice quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo con grande entusiasmo, con grande spirito di sacrificio. Oggi abbiamo fatto anche qualcosa di importante, come mi ha detto qualcun altro, abbiamo lavorato sullo sporco, sul gol che abbiamo fatto c'è stata una grande rincorsa di Magnaghi, ha finito un contrasto in maniera veramente esemplare e io sono soddisfattissimo di quello che abbiamo visto oggi in campo. Certo non sono soddisfatto del risultato perché delle volte succedono degli episodi che sono alquanto discutibili. La prima rete di Cianci è comunque una buona notizia, specialmente perché dai suoi piedi e dalla sua capacità di fare centro passeranno i destini del diavolo che ha dovuto fare a meno di lui nelle ultime due gare di campionato. È una sensazione bellissima, anzi ringrazio anche il mister che mi ha dato l'opportunità di farmi partire dall'inizio e va bene così. C'è un po' di rammarico, però secondo me, anche ora a fine partita abbiamo parlato dello sbagliatoio, secondo me e secondo noi siamo sulla strada giusta. Stiamo migliorando anche i concetti che ci chiede l'allenatore durante la settimana, dobbiamo stare alti, infatti è nata anche l'occasione del gol sul mio, che siamo stati bravi a recuperare una palla alta, servire Simone, Simone l'ha messo in mezzo e ha fatto gol. Poi ora è un periodo che ci capita così, che anche oggi la Viterbese come rende non hanno fatto un tiro in porta. È un rigore molto dubbio, ci ha penalizzato. La strada è quella giusta dunque, in Puglia oltre al gioco il Teramo può fare il colpaccio che possa far dimenticare gli ultimi due turni, nei quali ha raccolto molto meno di quanto avrebbe legittimamente meritato. Devo vedere assolutamente il fatto che dobbiamo migliorare ancora magari in qualche particolare, in qualche dettaglio, però la strada tracciata è quella giusta.